Martini per la prima volta entrava in Milano a piedi e la cosa bella che ha colpito con il Vangelo in mano Martini si accorge subito che Milano è una città plurale non ha un unico volto, è piuttosto la somma di tante identità e si accorge che questa però è una ricchezza è stato capace di aprire un dialogo difficile negli anni del terrorismo con alcune persone che avevano vissuto quell'esperienza drammatica di violenza spesso di morte quello che Martini credo abbia sempre combattuto è evitare il luogo comune che la fede si contrapponga alla scienza il Padre Nostro è una preghiera e quindi lo si capisce pregando non parlando del Padre Nostro grazie a tutti